ciao a tutti e bentornati sul mio canale con questo nuovo video perdonate la mia voce un po nasale e il mio naso tutto rosso ma sono un pochino raffreddata oggi è venerdì 16 febbraio e sono le 10 26 della mattina e ho iniziato questo vlog perché a leo daranno fino a mercoledì di riposo quindi un pochino di vacanza e ne approfittiamo per andare qualche giorno a casa nostra quindi vi voglio portare con me ora sto preparando le ultime cose sto finendo di sistemare casa l'ego rimarrà qui a casa perché ho una mia cara amica che viene a dargli da mangiare e si prenderà cura di lui e non stiamo a portarlo dato che per lui sarebbe più il trauma dello spostamento per così pochi giorni piuttosto che in realtà al tempo effettivo che siamo via quindi abbiamo preferito lasciarlo qui ora finisco di preparare le ultime cose poi andrò a prendere leo che finirà allenamento verso l'una e mezza alle due e poi andiamo a casa mia sassuolo mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale che a me farebbe un sacco piacere lasciate un mi piace se il video vi piace appunto e commentate che vi rispondo sempre da notare lui come se la spassa sono in camera che sto finendo di fare la valigia che la voglio chiudere e dopo la voglio portare in macchina e vi faccio vedere cosa ho preso innanzitutto ho preso in prestito questo trolley che è di leo tanto lui ha pochi vestiti io ne ho di più e ho preso qualche maglioncino sia grigio che nero e dei pantaloni della tuta varie tute e dei jeans per questi giorni perché più o meno qua in questa valigia ci saranno tre quattro cambi anche perché noi siamo via fino a martedì poi ho messo un blazer nero perché può sempre servire e vari body magliettine a maniche lunghe canottierine e quant'altro da mettere sotto poi ovviamente la valigia non ha finito sto finendo qui ho messo due borsette lì c'è tutto l'intimo e quale scarpe da tennis perché giocherò anche a tennis ora manca il beauty la racchetta da tennis che però qua dentro non ci sta la tengo fuori e direi che ho finito perché un paio di scarpe ah no ci devo aggiungere un paio di scarpe poi siccome viaggiare leggera non mi piace leo riteneva esagerato già quel trolley appena vedrà anche questo zainetto mi dirà sicuramente qualcosa comunque ho preso questo perché ci devo mettere agenda occhiali computer il mio astuccio tutti i miei vari cavetti se riesco ad aprire ve lo faccio vedere ecco tutti i miei cavetti un treppiede di ricambio le batterie per la videocamera carica computer e qui invece ho il beauty dove ho tutti i gioielli accessori occhiali da sole quindi anche lo zainetto ora lo riempio comunque credo che chi mi veda girare così pensi che io sia matta sto caricando tutto in macchina ora vi faccio vedere quanta roba ho preso allora il baule è conciato in questo modo e questi sono i posti dietro direi che siamo pronti ora vado a prendere leo d'allenamento e partiamo allora recuperato l'ultimo pezzo finito di allenamento un po di vacanza vi ho preso anche il pranzo voi ditemi se non sono da sposare ora mettiamo ora mettiamo no casa no il navigatore vediamo quanto da abbiamo anche impostato il navigatore dice due ore e 13 speriamo un po meno arrivati a casa sono le cinque noi in realtà siamo già arrivati da una retta abbiamo fatto merenda e tutto io potrei avere fatto un danno nel senso che noi siamo venuti giù in questi giorni soprattutto per vederci con il don per fare le pubblicazioni che sono sento mia volare era una delle mie due gatte qui a sossuolo che voleva entrare tra l'altro mi sono appena tagliata anche vabbè comunque e dobbiamo fare pubblicazioni che sono i documenti ufficiali che devono stare esposti per il matrimonio bla 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 e serve il certificato di battesima e cresima il mio è qui ed ero certa di averlo qui ma ero certa di avere qui anche quello di leo in realtà è rimasta tortona questi documenti si possono fare solo con i certificati quindi adesso ho chiesto a cla se riesce andare in casa e fotografarmelo il problema è che non so dove l'ho messo a tortona quindi poverete le devo anche far cercare vabbè lasciamo perdere comunque e sono appunto vi dicevo le 5 per la precisione le 5 e 0 9 e questa sera alle 7 e mezza abbiamo un incontro con il dj del nostro matrimonio che suona in un locale a modena che si chiama bobotti è molto rinomato qui però io non sono mai stata quindi andremo a fare due chiacchiere con lui e andremo ad ascoltarlo penso la prima oretta o anche mezz'oretta giusto così e poi dopo nulla poi torniamo a casa che dormiamo appunto in manzarda ho messo sistemato già un pochino di cose c'è ancora la mia gatta che miagola e nulla adesso sto un po con i miei siamo un pochino giù tutti insieme e poi andiamo a modena direzione modena per appunto l'incontro con il dj volevo farmi carina truccarmi ma siamo in ritardo qui niente colpa tua è in ritardo non mia specificalo siamo al giorno dopo oggi è sabato mattina e sono già le 12 meno un quarto io sono uscita di casa perché sono venuta dalla parrucchiera che tra l'altro sarà anche la parrucchiera il giorno del mio matrimonio quindi oggi sono venuta un po per una chiacchiera conoscitiva un taglio giusto per spuntare le punte una piega in modo tale che ci conosciamo e poi appunto alla prossima prova abito verrà anche lei in modo tale da vedermi con l'abito addosso e sceglieremo di conseguenza l'acconciatura per il giorno del matrimonio che io non ne ho la più pallida idea detto ciò oggi giornata molto molto tranquilla nel senso che saremo a casa e leo l'ho lasciato a casa con i miei che almeno si riposa stasera mangiamo le tigelle che sono dei miei piatti preferiti ieri la chiacchiera con il dj è andata molto bene quindi anche lato dj diciamo sistemato e nulla vado vado appunto a tagliarmi i capelli la mia idea è di tagliarli tanto così ora vediamo e di farmi una piega mossa però appunto vediamo appena uscita dalla parrucchiera ora vado a casa e poi ve li faccio vedere meglio gli ho tagliati un sacco abbiamo fatto una piega un pochino mossa e chissà quanto dureranno e basta ora vado a casa sono tornata a casa ho pranzato vi faccio vedere il taglio praticamente io li avevo lunghi fino a qui ed erano davvero tanto rovinati quindi li ho accorciati un po e mi sono fatta questo cioè mi ha fatto questo mosso che però sinceramente andrà via perché a me i capelli mossi non durano molto li ho tagliati tanto così quindi mi piacciono tanto li ho fatti pari di solito li facevo sempre scalati però oggi la parrucchiera mi ha consigliato un taglio pari devo dire che mi piacciono tantissimo sono molto soddisfatta ora mi cambio mi metto in tenuta da casa una bella tutta comoda e poi ci riposiamo un pochino perché siamo un pochino stanchi soprattutto dal viaggio di ieri poi veniamo da un periodo dove stiamo facendo 8 miliardi di cose abbiamo bisogno di un pochino di riposo tigelle party un uomo molto impegnato domenica domenica mattina noi direzione messa a san micchi dice anche la otta sono le 11 ore 13 e 37 noi siamo in direzione bologna che andiamo a trovare i fratelli di leo c'è una bella giornata anche se c'è un po di foschia abbiamo pranzato e ora appunto siamo in viaggio in direzione bologna con l'aiutante siamo a lunedì sono le 10 e 49 io sto andando in direzione sassuolo qua c'è leo sempre sempre lì che gioco a tennis un'oretta e successivamente subito dopo partiamo perché abbiamo un incontro a parma quindi dobbiamo partire subito infatti mi cambierò in macchina come sempre noi facciamo le cose sempre molto tranquillamente e non di corsa allora siamo qua da tre giorni cioè io ho la balla per tutti i giri che abbiamo fatto tra modena sassuolo bologna oggi andiamo a parma però tempo per riposarci in un'altra vita e niente appunto dopo andiamo a parma ora vado a giocare a tennis vabbè ragazzi comunque se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate un bel mi piace un bel commento mi raccomando mi raccomando mi siamo a martedì mattina quindi al giorno dopo dall'ultima clip ieri alla fine non abbiamo firmato niente perché dopo l'incontro appunto a parma siamo andati dal don che ci ha fatto firmare vari fogli ci ha fatto l'esame dei fidanzati ovvero ci ha fatto delle domande per capire veramente se fossimo convinti o meno nello sposarci e per fortuna è andata bene ce la siamo cavati lui era tesissimo ragazzi teso vero nulla questa è l'ultima mattina che siamo a casa quindi stamattina ne approfittiamo per fare un pochino i turisti e andare al museo della ferrari solo a vedere un po così non penso faremo tutta l'intera visita guidata perché lei non l'ha mai visto io ce l'ho già stata però comunque se è possibile fare qualche clip vi farò vedere e niente ci godiamo l'ultima mattinata qua perché dopo pranzo appunto torniamo su d'ordona arrivati tra l'altro lui prima visto anche in macchina per strada su una stelvio bellissima e un pilota Antonio fuoco poteva seguirlo per fargli la foto e basta c'è Leo che è pazzo di questo posto andiamo dai allora ti è piaciuto o no simulatore? molto difficile però clamoroso ti ha fatto un bel regalo grazie 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 sono decisamente stravolta ma finalmente siamo arrivati a casa sono le 6 dico finalmente perché quando siamo tornati a tortona dovevamo fare la spesa quindi siamo andati a fare la spesa tra l'altro c'è spesa proprio quelle spese del disagio dove entri non sai neanche cosa hai bene a casa cosa no però cerchi di prendere un po' di frutta verdura un po' di robe ce lego sul tavolo quindi abbiamo anche fatto spesa all'esse lunga ora siamo tornati a casa io sto sistemando tutto e lei è andata a fare un pochino di allenamento oggi loro non avevano allenamento però Leo voleva comunque andare a fare qualcosina quindi lui è andato io sistemo tutto e siamo tornati oggi perché stasera appunto abbiamo il corso prematrimoniale se non avessimo avuto il corso potevamo tranquillamente tornare domani perché gli allenamenti riprendono giovedì però siamo tornati a casa siamo stati benissimo questi giorni sono volati è sempre difficile vivere lontano dalla famiglia perché quei pochi giorni che hai per stare appunto tutti insieme volano e si mi sembrano davvero passati troppo in fretta però siamo tornati alla nostra quotidianità ieri appunto siamo andati dal don quindi le cose per il matrimonio stanno procedendo siamo riusciti a fare un sacco di cose inerenti al matrimonio oggi ho portato Leo a Maranello che lui non c'era mai stato e gli ho regalato anche la prova sul simulatore che lui non voleva fare c'è il gatto che sta giocando con un pacco di sue scatolette quindi anche Leo era molto contento era lì tutto carico sul simulatore e nulla spero che questo vlog vi sia piaciuto vi abbia tenuto compagnia mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi lasciatemi un like e commentatemi sotto che vi rispondo sempre e noi ci vediamo nel prossimo video ciao